Siamo due puledri per questo campionato, si contenderanno la medaglia d'oro. La medaglia d'argento giudicati dalla nostra giuria si presenta nel ring al completo, coordinata dal ringmaster Barbara Raso. La medaglia d'argento giudicati dalla nostra giuria. 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 La mitaglia d'argento giudicati dalla nostra giuria. La medaglia d'argento giudicati dalla nostra giuria. La medaglia d'argento giudicati dalla nostra giuria. anno va al puledro numero 19, Amarantas Dracaris, un figlio di Amarantas Rashmore and Malena, allevato e di proprietà per l'Italia del signor Claudio Pastine e medaglia d'oro va al puledro numero 16, Abi Bandar, un figlio di Disseraj e Priscilla OS, allevato e di proprietà di Abba Arabians. Congratulazioni ai puledri e congratulazioni ovviamente ai proprietari e anche agli handler per la presentazione. Possiamo procedere ora con la premiazione, grazie. Grazie a tutti. Medaglia d'argento per il campionato puledri di un anno al puledro numero 19, Amarantas Dracaris, un figlio di Amarantas Rashmore e Malena, allevato e di proprietà di il signor Claudio Pastine. Campionato sponsorizzato da Dubai Arabian Horse Stud, grazie. E la premiazione per la medaglia d'oro, il puledro numero 16, Abi Bandar, un figlio di Disseraj e Priscilla OS, allevato e di proprietà di Abba Arabians. Congratulazioni a entrambi i puledri e ai proprietari. Bene, ora prima di procedere con i campionati successivi vorremmo dedicare qualche minuto per ringraziare la nostra giuria e la nostra commissione di scelta.